Il 9 ottobre 1963 alle 22.39 un'intera parete del Monte Toc, circa 260 milioni di metri cubi di roccia, franò improvvisamente nel lago artificiale della diga del Vaionta. Un'enorme ondata d'acqua e fango, pare a circa 30 milioni di metri cubi, poco meno perciò del volume dell'intero lago romagnolo di Ridracoli, superò il culmine della diga con un'onda alta circa 250 metri per precipitare a valle travolgetto l'intero abitato di Longanone. In circa tre minuti morirono 1917 persone. Il disastro del Vaionta, i tanti errori, le sottovalutazioni e le vere e proprie colpevoli reticenze che furono alla base di questa immane tragedia, da diversi anni sono motivo di studio da parte dei giovani studenti forlivesi, coinvolti in un originale progetto educativo. Il progetto è un progetto interdisciplinare che ha riguardato molte scuole del Forlivese e del territorio perché noi siamo partiti nel 2008 con la prima scuola di Castrocaro Terme e poi siamo andati a Villa Franca, quindi abbiamo ripetuto a Villa Franca nel 2013 lo stesso progetto che ha riguardato appunto, come dicevo prima, tutte le materie, tutte le discipline scolastiche per arrivare infine alla scuola media Urceoli. Quest'anno la seconda D, la seconda E e di riflesso la prima E partecipano al progetto Vaionte. Il 20 aprile, come è sempre successo nell'arco degli anni, saremo su a Longarone a visitare i luoghi della memoria con Michela Coletti, presidente del Comitato dei Sopravvissuti e Francesco Martini, che è appunto uno degli esperti di riferimento del progetto.